Gina Cucinello, perché questa lista, visto che di liste alle prossime elezioni non ne mancano? Perché noi siamo un gruppo di persone che ci siamo unite, proveniamo da aspetti diversi, da esperienze diverse, ma abbiamo un unico obiettivo, cioè quello di rendere la Costituzione una legge reale, vera, e perché crediamo che soltanto unendo le forze possiamo fare quella che viene tanto chiamata giustizia. La giustizia è nell'articolo 3, perché nell'articolo 3 si parla di uguaglianza tra i cittadini, tra le persone, e quindi per questo motivo noi crediamo che il benessere per la nostra città, quindi Gorizia, sta nel benessere di tutti e quindi nel rispetto del principio che appunto parla di questa possibilità di uguaglianza. Senti, nome italianissimo, però sei indiana, tu sei cresciuta praticamente qui a Gorizia, qual è stata la tua esperienza di integrazione, visto che proprio siamo anche in un'altra epoca in realtà? Certo, io sono stata adottata quando ero ancora piccolissima, quindi sostanzialmente sono sempre vissuta a Gorizia, la conosco, l'ho vissuta e per un certo aspetto ho avuto anch'io magari le mie difficoltà appunto per via dei miei tratti insomatici, però poi appunto come personalità essendo italiana non ho avuto questi grandissimi problemi. Invece nel corso io ho frequentato, mi sono appena laureata in relazioni pubbliche e ci sono stati moltissimi ragazzi stranieri che provenendo da altri paesi hanno avuto tanti problemi nell'integrazione e io per questo motivo mi sono battuta all'interno proprio della mia università affinché appunto potessero sentirsi parte di questa città accolti. Comunque sì, la diversità è un problema purtroppo e il nostro movimento cerca di abbatterla. Senti ma è un problema perché la gente ha paura un po' delle novità, ha paura perché non conosce, perché insomma Trieste che insomma di stranieri è una città non solo multiculturale ma è anche una città che sta accogliendo circa 1200-1300 cittadini a livello di richiedente esilo, eppure noi tutti questi problemi non li abbiamo, c'è un problema forse di mentalità che si ha paura della diversità. Sì, quello sicuramente, si ha paura della diversità perché siamo anche comunque in un contesto dove la diversità non è conosciuta, si ha paura di mettersi molto nei panni degli altri perché secondo me viene visto come uno sforzo, ormai le persone pensano molto a se stesse e non hanno quella capacità appunto di mettersi nei panni degli altri e di pensare come si sente l'altra persona. E quindi questo secondo noi è anche un motivo per il quale noi dobbiamo cercare di aiutare le persone e di insegnare ed ed educare il fatto che la diversità non è poi così un grande ostacolo, bisogna comprendere. Senti, a Monfalcone però diversità, insomma ce lo dicono i numeri, significa economia, ricchezza, industria, sviluppo e soprattutto tanto lavoro. Un territorio come quello monfalconese dove fondamentalmente la crisi si conosce a malapena rispetto al territorio greziano. Anche questo è oggi in un mondo dove fondamentalmente la globalità che piaccia o meno è realtà? Certo, sì, infatti molte persone credono che la diversità sia un ostacolo ma noi dobbiamo vedere, e questa è la difficoltà, noi dobbiamo vedere la diversità, questi aspetti come un punto di forza per il nostro Stato, per il nostro in questo caso città e quindi Monfalcone è appunto un esempio.